Siamo qui ancora una volta per ribadire la disponibilità e la solidarietà del popolo napoletano che si è dimostrata di nuovo così in maniera dirompente nella partita di calcio che c'è stata alla fine maggio. Insomma una cittadinanza sempre molto attiva e presente nei momenti di difficoltà. L'incasso della partita del sole, la manifestazione a scopo benefico del 30 maggio scorso allo Stadio San Paolo in cui si sono sfidati attori, cantanti, calciatori e magistrati è stato consegnato oggi con una cerimonia a Palazzo San Giacomo. I biglietti di 5 e 2,5 euro hanno permesso un incasso di 25 mila euro devoluto ad associazioni del territorio e per la ricostruzione delle scuole colpite dal terremoto di Amatrice. Di questi 25 mila euro 5 mila vanno al comune di Civitella del Tronto per la ricostruzione della scuola elementare e 5 mila euro all'Unicef regionale e il restante va alle associazioni scuole e scuole calcio di Napoli e provincia. Non abbiamo voluto gravare sull'economia delle famiglie quindi abbiamo fatto proprio un prezzo che è un contributo di 2 euro, 2,50 euro. Quindi l'incasso è stato buonino in virtù del breve tempo che abbiamo avuto. Era uno degli obiettivi della partita del sole quella di creare un momento dove questo enorme pubblico che ci ha dato una soddisfazione di bambini che hanno contribuito a quella bellissima manifestazione potesse avere nella solidarietà uno degli obiettivi. Non soltanto solidarietà, anche la legalità, lo sport. È stata una bella mattinata, è stata una mattinata piacevole, c'erano tantissima gente. Penso che abbiamo regalato un sorriso sia ai bambini ma soprattutto ai tanti destinatari di questo bel messaggio.